seconda parte qui c'è una cana non è tanto credibile è sempre bello qui c'è un albero qua c'è un tronco poi c'è un altro albero poi c'è questo bellissimo questo è bello qua c'è un altro questo è molto molto bello questo qua è molto grande questo qua invece sembra solo fatto di case questo è un presepe bellissimo vedete poi questo qua sono statuine fatte con un materiale qui è un altro abbastanza bello questo qua c'è un po cos'è questo qua è bello questo è molto bello poi c'è questo che è simile a quello di prima c'è questo qua poi c'è questo e questo qua che è molto figo guardate che bello la grotta dovevano metterci una lucina qua ce ne sono alcuni fatti con la pietra poi qua c'è una casetta qua c'è un altro fatto in un intero blocco questi qua sono personaggi attaccati e questi qua sono molto belli sono carini e finisce questo e poi c'è questo grazie a tutti grazie a tutti